Sono il professor Morcellini, presiedo il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale e sono qui per mandarvi un saluto affettuoso a tutti quelli che bevono con la testa o che possono imparare a bere con la testa. La ragione per cui vi mando questo messaggio con affetto ma anche con tenace spirito di condivisione del lavoro fatto da Luccherini e da altri e da tutti voi e che noi insieme a lui organizziamo a metà ottobre, il 14 ottobre, un incontro a Roma per l'appunto intitolato Bevi con la testa in cui studieremo, presenteremo, discuteremo con giovani, con studenti, con operatori, con giornalisti, con personaggi della comunicazione e psicologi sia la questione dell'alcol, l'impatto dell'alcol nella vita dei giovani sia anche la possibilità di mettere in campo soprattutto da parte dei giovani prodotti, video, idee e contenuti che cambino la comunicazione sul bere in modo che i giovani vedano accorciate le distanze tra i modelli comunicativi che si rivolgono a loro e la loro vita. Noi saremo solo garanti di questa riduzione di distanze tra la comunicazione e le culture giovanili. A tutti un saluto affettuoso. Grazie.